Quanto ci farà aspettare? La cerimonia termina le tre, credo. 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 Le tre, credo. La cerimonia termina, credo. La cerimonia termina le tre, credo. La cerimonia termina le tre, credo. Tutto è andato bene. Ci sono stati complicazioni con il paghetto. Alcuni operai si sono sentiti male. Complicazioni? Perché nessuno mi ha perdito? la cerimonia termina le tre, credo. La cerimonia termina le tre. La cerimonia termina le tre, credo. La cerimonia termina le tre. 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 RUNNIN' FOR LIFE PROVIDES AN INTENSE ADRENALIN' RUSH RILLY, THERE'S NOTHING LIKE IT EXCEPT THE INCREDIBLE FEELING OF SATISFACTION WHEN YOU KNOW YOU'VE COMPLETED A MISSION AND DONE YOUR JOB WELL YOU'VE FINISHED THE MISSION IN RECORD TIME AWESOME WORK COBRAM MANAGED TO NOT GET KILLED DEBENDING YOU'VE GOT UNTED